Se il comune è un'amministrazione che deve tener conto in primo luogo del cittadino, non può creare tutti questi disagi. Monta la protesta contro il comune di Fanno e la concessionaria Andreani Tributi, che sta inviando cartelle esattoriali non solo alle industrie della città, ma anche ai proprietari di palazzi storici. Metrature cambiate, arretrati da pagare, disagi arrecati a tanti cittadini che ora devono sborsare, a sorpresa, cifre esorbitanti. Ce ne parla Renzo Ricci, amministratore del palazzo Saladini Ferri di Piazza Costanzi. Se poi la tributaria Andreani non si legge con l'ASET, se l'ASET non si legge con il comune, ovviamente c'è una situazione, diciamo così, di incongruenza. Quando uno vede la cartella e dice tassa rifiuti tari con contestuale irrogazione della sanzione, cioè praticamente tu mi metti in piedi una litigiosità automatica. Prima chiariscila, poi metti in piedi il discorso della sanzione, questo è il problema nostro. Io come amministratore di questo, ho altre problematiche. In agricoltura il deposito di attrezzi agricoli viene sanzionato, come viene considerato, una cantina, come viene indicata. Cioè ci sono situazioni che sono peculiarità che l'amministrazione deve tenere conto per evitare la litigiosità fra cittadini e amministrazione. Non c'è stata una comunicazione dei dati tra enti diversi, spiega Ricci, perché gli accordi presi con il comune anni fa erano diversi. Queste cartelle sono già arrivate anche a tanti conoscenti dell'avvocato Luciano Bracci, per nove anni vicepresidente nazionale delle dimore storiche italiane e oggi presidente onorario dell'Asde Marche. Per l'avvocato, anche lui proprietario di uno di questi immobili, non è giusto paragonare la tassa applicata a un appartamento di 100 metri quadri, in cui vivono tre persone, a quella di una dimora storica disabitata. I rifiuti che si producono non sono certo gli stessi. Siamo tenuti a tenerle in ordine, la manutenzione costa una marea di soldi, il riscaldamento come sopra. C'è stato il terremoto, noi non siamo in zona di terremoto, io ho come danno avuto una serie di crepe sui soffitti. Se i soffitti sono bianchi, uno li stucca e le ripittura, se i soffrischi sono affrescati diventa un inferno, perché deve venire il restauratore, deve venire quello, a cui almeno teoricamente saremo obbligati. Questa, ad esempio, è una delle bollette inviate dall'affidataria. Vengono precisati anche l'anno di riferimento, dal 2015 al 2019, l'importo, gli interessi e le sanzioni per un totale di oltre 3.700 euro. Se pagato entro 60 giorni, l'importo si riduce a 2.975. Ci sono comuni, fa sapere Luciano Bracci, nei quali la tassa viene calcolata fino a una superficie di 300 metri quadri e non al di sopra. Oltretutto dovrebbe esserci una riduzione del 20% relativa alla superficie calpestabile e qui pare che non venga applicata. In Olanda, ad esempio, che mi sembra una fondazione civile, fanno pagare i sacchetti della nettezza urbana, a seconda di quale sia il tipo di rifiuto, per cui uno paga su quello che consuma. Siamo intenzionati ad andare a parlare con Seri, un attimo, per vedere se si riesce ad ottenere qualche cosa. E poi anche da parte della società che ha l'appalto di questo, un momento di attenzione, perché loro vanno così, come una macchina, gli passa sotto, devono incassare, giustamente prendono l'agio che non è neanche basso per Fano, e quindi più tasse mettiamo, più le facciamo. Credo che un attimo di attenzione in un momento come questo, in cui la gente si trova, quasi tutti o tutti direi, in difficoltà, con la scusa che dice sì, questa è una tassa di 10 anni fa, ho capito, ma se me la fai pagare adesso che io non ho i soldi, cambia poco che sia di 10 anni fa. Speriamo di riuscire ad ottenere qualche cosa, perché è una situazione pesante.